Il modello Lombardia di cui parlo, noi governiamo con l'NCD, abbiamo fatto una grande riforma della salute, abbiamo fatto una legge contro il consumo del suolo, abbiamo approvato adesso un nuovo regolamento per vietare l'ingresso con il volto mascherato negli ospedali, scelte coraggiose, fatte e condivise anche da l'NCD. Quindi una coalizione programmatica con l'NCD su Milano si può fare? Io porto la mia esperienza, la mia esperienza personale è che io sono riuscito, sto riuscendo a governare bene, a fare tante cose importanti, innovative e coraggiose con il consenso di tutti, è un centrodestra che fa il centrodestra in regione Lombardia, mi piacerebbe che lo stesso modello fosse a Milano, ci sono dei problemi, delle difficoltà, me ne rendo perfettamente conto, mi auguro che chi deve decidere, decida rapidamente tenendo conto del buon governo della regione. Ma chi ha una posizione ostativa è Forza Italia in realtà, non la Lega in questo momento? Lo strappo di Alfano non è stato accettato? Ci sono dei problemi, come ho detto, di carattere politico, se guardiamo i programmi, se guardiamo la concretezza delle azioni in Lombardia tutto il centrodestra funziona, poi ci sono altre valutazioni che spetterà a chi deve decidere fare e valutare fino in fondo.